Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 si vota per il referendum popolare confermativo della legge di riforma della Costituzione per la riduzione del numero dei parlamentari. Le elezioni regionali in sette regioni, Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Le elezioni comunali in circa 1000 comuni. Le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel Collegio Uninominale 3 della Sardegna e nel Collegio Uninominale 9 del Veneto. Tutte le informazioni sono disponibili nella programmazione nazionale e regionale della RAI, sui siti interno.gov.it, rai.it e sulle pagine di televideo. Grazie.